Aestro Francesco Stefanon vi diamo il benvenuto a questo concerto del Natale 2017 e partiamo subito con una canzone scritta nel 1977 da John Williams e faceva parte della corona sonora di un film diventato ormai una serie che è attuale anche in tutti cui c'è fino ai nostri giorni è Star Wars e questa è la canzone iniziale che la banda ha preso come sigla proprio di inizio di questo spettacolo. A voi! Grazie! 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 Bravissimo! 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 Adesso proseguiamo con un brano scritto nel 1982 da Michael Jackson e faceva parte, quell'anno è stato un anno mitico diciamo così per la musica, pensate che l'album in cui fa parte Thriller che ora suoneranno ha venduto più di 100 milioni di copie, quindi penso che sia tra Imagine di John Lennon una delle canzoni più famose al mondo. Quindi possiamo ascoltare questa altra delizia della banda Santa Cecilia. Grazie. 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 Adesso faranno un'altra canzone sempre tratta da una colonna sonora di un film uscito nel 2012 che faceva parte della serie degli 007 che è stata scritta da Adele appunto nel 2012 che ha vinto sia l'Oscar come miglior canzone che anche il Golden Globe e si chiama Scaiful. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.